Camera di commercio, personale, lumicine e servizi dislocati sul Tauro, prospettive e soluzioni. Il 7 agosto scorso si è svolto nel locale della sede territoriale di Siracusa della Camera di commercio del Sud-Est un incontro promosso dalla consulta dell'associazione di categoria di Siracusa con il commissario della Camera di commercio del Sud-Est Antonio Belcuore e con il segretario regionale Rosario Condorelli. Il tema dell'incontro è stato l'assetto organizzativo, la quantità e qualità di servizi forniti dalla sede territoriale di Siracusa e le prospettive di soluzione delle tematiche rilevate. In apertura il coordenatore pro-tempo della consulta Giampiero Reale ha rimarcato l'apprezzamento di tutte le associazioni aderenti alla consulta per le modifiche statutari recentemente introdotte che elevano a sedi territoriali e non più sedi distaccate, le sedi di Siracusa e Ragusa e che assicurano la prevenenza delle tre figure apicali, Presidente e Vicepresidente, da tutte e tre le province che compongono le Camere di commercio del Sud-Est Sicilia. Il coordinatore della consulta ha quindi posto sul tavolo la condizione corrente che vede nella sede di Siracusa la presenza ormai di soli 5 dipendenti che, seppur appoggiandosi anche agli uffici di Catania e Ragusa, non riescono a evadere nei tempi di attese le pratiche presentate. Tra i problemi elencati vi sono la gestione del registro delle imprese, dell'albo dell'impresa artigiana, la cui amministrazione è da anni a Ragusa, e dei registri di carico e scarico, nonché la possibilità di avere incontri diretti con i funzionari per discutere le pratiche che presentano particolari criticità. Il Commissario Belcuore è ringraziato per l'iniziativa dell'incontro e ribadendo la disponibilità dell'ente al confronto e lo Stato il contesto che blocca la possibilità di sostituire il personale che lascia per raggiunti limiti di età la Camere di commercio a causa della norma legata all'invariabilità dei saldi. Riferisce che il Governo regionale sta però lavorando per la soluzione del nostro problema della spesa pensionistica della Camere di commercio siciliana, soluzione che potrebbe liberare ingenti risorse oggi accantonate dalle Camere di commercio siciliane per il pagamento delle pensioni in luglio 2024. Infatti è stata annunciata dall'assessore Tamai una norma specifica a tal fine che dovrebbe essere presentata breve. La consulta ha espresso soddisfazione per le iniziative rivolte a minimizzare i disagi correnti e per le ulteriori soluzioni prospettate, dando appuntamento ai funzionari della Camere di commercio per i prossimi incontri di follow up al fine di valutarne l'efficacia e gli impatti sulle imprese.